Dopo oltre una settimana di attacchi a ciclo continuo da parte della Gazzetta dello Sport apparentemente inspiegabili, è arrivato il momento dell'analisi. In questi giorni sono usciti parecchi articoli che cercano di spiegarsi oppure si domandano il perché di questo attacco apparentemente così immotivato. Io sinceramente mi ero riproposto di non soffermarmi ulteriormente sulla vicenda, però alcuni degli spunti venuti fuori proprio da questi articoli di analisi mi hanno fatto venire il desiderio di dire la mia, di completare quello che secondo me c'è di incompleto nell'analisi fatta fino adesso. Per i pochi, almeno immagino, fra quelli che seguono Slice che non hanno seguito la vicenda stiamo parlando dell'attacco frontale della Gazzetta dello Sport in occasione della Coppa Davis e dalla mancata partecipazione a questa fase semi-conclusiva della Coppa Davis da parte di Yannick Sinner che non ha risposto alla convocazione. Come già spesso è capitato in passato, Sinner si è attirato immediatamente le critiche di una parte dell'opinione pubblica. Quello che è stato diverso questa volta è stata la ferocia, assoluta e anche apparentemente inspiegabile da parte della Gazzetta dello Sport che con una serie interminabili di articoli culminati poi con un inserto lunghissimo all'interno del loro settimanale Sport Week ha letteralmente preso di mira Sinner e oltretutto con un utilizzo di una certa retorica che ha fatto veramente inorridire molti, anche me, insomma, se volete la mia opinione. Per cercare di cominciare ad analizzare la vicenda, soprattutto cosa possa aver portato la Gazzetta dello Sport ha un comportamento simile, è interessante partire dall'articolo che è uscito ieri sull'ultimo uomo a firma di Emanuele Atturo. Atturo è bravissimo, scrive benissimo e riesce a trasmettere con un mix sempre molto equilibrato di brillantezza, diciamo intellettuale, però anche ironia e visione di insieme dei fenomeni, la vicenda. La sua lettura sostanzialmente si divide in due momenti principali dopo una ricostruzione puntuale che vi consiglio appunto per chi non abbia seguito nel dettaglio la vicenda, sostanzialmente Atturo, e mi permetterete tutti un po' la semplificazione e leggete il pezzo che merita, identifica una sorta di revanchismo, di volontà di cavalcare un certo sentimento nel paese, molto patriottico, con una sensibilità molto forte a una retorica, insomma, abbastanza nazionalista, il motivo per cui la Gazzetta dello Sport abbia identificato insinere un obiettivo facile per andare a catturare un certo tipo di pubblico, magari non la stragrande maggioranza del pubblico, ma un pubblico sicuramente disposto a reagire, a reagire molto a sollecitazioni simili, come si vede d'altronde in qualsiasi manifestazione, in qualsiasi accadimento in questo paese, e a cavalcare quindi per un fine tra il commerciale, diciamo, e il politico quest'onda e quindi farle prendere vento, alimentarla di continuo, sfruttando la prestazione abbastanza scadente, la sconfitta contro il Canada nel primo dei tre appuntamenti di Davis di questa settimana, un po' per additare, insomma, per dare la colpa, per portare tutta l'attenzione su Sinner, che in un certo senso è un bersaglio facile per questa retorica, essendo alto attesino, è facile identificarlo, insomma, con una sua poca italianità, con una sua poca affezione alla bandiera, e insomma, e via via tutta questa nauseante, almeno dal mio punto di vista retorica. Il pezzo è centrato, identifica sicuramente una parte della questione, e poi si sofferma nella seconda metà, soprattutto sulle motivazioni di questi lettori che vengono attivati da questo tipo di retorica, le loro motivazioni, cosa soddisfa questo contenuto dentro di loro, insomma, cosa li muove. Alla fine quella di Atturo è un quadro con dei tratti sicuramente politici e sociologici, ovviamente sicuramente consapevoli delle dinamiche commerciali che ci sono dietro allo smuovere un certo tipo di sentimenti, però si ferma appunto con questa lettura, che è una lettura validissima e che sicuramente è una parte di quello che accade. Per motivi puramente commerciali, certa parte del giornalismo sportivo, ma non solo, è disposta a cavalcare qualsiasi cosa, è disposta a sacrificare qualsiasi tipo di principi etici nel racconto, pur di riuscire a creare engagement e a fare sostanzialmente in questo modo quei pochi soldi che gli rimangono a disposizione. Però secondo me questa è solo una parte del problema, perché il giornalismo italiano vive una crisi più profonda e sempre Sinner, in un certo senso, con uno sguardo un po' a quello che è accaduto un anno fa, può aiutarci a capire alcune di queste dinamiche. Sì, perché purtroppo per il povero Sinner non è la prima volta che accade questo. Ovviamente in termini diversi, ma l'anno scorso, nella primavera dell'anno scorso, anzi a partire dalla fine dell'inverno dell'anno scorso, Sinner è stato oggetto di un attacco sicuramente più camuffato ed elegante per certi versi, ma estremamente duro nel momento in cui c'è stata la decisione di separarsi da Riccardo Piatti. Si è trattato tuttavia di un attacco che ha mostrato qualcos'altro, ha mostrato un altro punto di fragilità del ventre molle del giornalismo italiano. Non appunto il revanchismo, non la volontà di cavalcare un sentimento becero, popolare, molto diffuso, ma in realtà ha evidenziato il problema che io definisco della vicinanza. Dopo un grande primo set giocato contro Andrei Rublev a livello di ottavi di finale, venendo da una difficile vittoria contro McDonald, sofferta soprattutto per un problema al ginocchio, Sinner ha avuto appunto un riaccutizzarsi di questo problema al ginocchio e sostanzialmente ha dovuto ritirarsi, ha dovuto abbandonare questo Roland Garros per un problema fisico. Per riuscire a seguire tutta la vicenda è però necessario fare una premessa e andare un po' a contestualizzare qual era il momento di Sinner nello specifico del Roland Garros 2022. Sinner si era appunto separato da Piatti un po' all'improvviso. A gennaio, in una manovra che non sembrava essere particolarmente pianificata, ha deciso di farsi seguire da Simone Vagnozzi e si è trovato praticamente nella necessità di dover riconfigurare tutto un po' il suo team di lavoro, soprattutto a livello fisico. I primi mesi del 2022 sono stati estremamente complessi, ci sono stati vari problemi di carattere completamente diverso, c'è stato il Covid, ci sono stati problemi di stomaco, ci sono stati problemi di vescica a Miami, c'è stato qualche problema alla caviglia, un problema all'anca a Roma, insomma ci sono state una serie di cose, tutte molto diverse e difficilmente accomunabili, che però hanno subito attirato le critiche, insomma dei suoi detrattori che immediatamente hanno cominciato a contestare la scelta di Sinner, a dire che era stata catastrofica, che stava andando a pezzi perché non era più seguito da Piatti e dal suo staff che era adesso seguito sostanzialmente da un branco di incompetenti, insomma che era destinato alla catastrofe. Sinner ha continuato a navigare questa situazione, si è trovato a disputare Parigi appunto non in condizioni ottimali, c'è stato questo riacutizzarsi, insomma questo problema al ginocchio che l'ha costretto a ritiro e in quel momento sono piovute delle critiche e in realtà appunto c'era un'argomentazione di base, completamente prestestuosa, ma c'era un'argomentazione di base. La questione però è stata il contenuto di queste critiche, le argomentazioni di queste critiche, il tipo di indagine giornalistica che è stata fatta per cercare di avvalorare queste critiche. Soprattutto dopo quella partita contro Rublev sono piovuti a cascata nel giro di pochissimi giorni alcuni contenuti che a me hanno lasciato anche in quel caso esterefatto, anche se adesso forse ci appare qualcosa di meno plateale, però in quel momento vi assicuro che non sembrava così poco plateale. C'è stato un susseguirsi appunto di interventi inspiegabili, apparentemente inspiegabili. Uno su tutti è stata sicuramente l'intervista del giornalista della stampa e del direttore di tennis italiano Stefano Semerario a Zimaglia, l'ex appunto fisioterapista di Yannick Sinneri, un'intervista senza praticamente contraddittorio, con delle domande tutte che sembravano imbeccare le risposte a Zimaglia, in cui è stato dipinto un quadro assolutamente a senso unico rispetto alla lettura di quanto accaduto, in cui sostanzialmente di Zimaglia diceva che loro avevano una conoscenza completa di Sinner, lui, Siro, la e Piatti, e che a Sinner senza la loro guida, senza la loro conoscenza, è normale che fosse completamente nel disastro fisico più assoluto, perché solo loro potevano conoscere nel dettaglio che Sinner era una macchina estremamente fragile, eccetera. Un'intervista con un'opinione senza il minimo contraddittorio, c'è un punto di vista unico. L'ex fisioterapista di Piatti, non c'è stato l'intervento del nuovo fisioterapista, non c'è stata una domanda fatta a Sinner, né al nuovo allenatore di Sinner su quella che poteva essere la visione, no, un pezzo in cui sostanzialmente si dipingeva Sinner come autore di una scelta completamente sconclusionata. Nello stesso periodo usciva sempre su Tennis Italiano, ah, Tennis Italiano, ricordiamo, il direttore di Tennis Italiano è lo stesso Stefano Semeraro, e in quel periodo, nel momento in cui uscivano questi articoli, ancora in questo così prestigioso mensile italiano, tenevano due rubriche, ma sapete chi? Eh, lo stesso Zimaglia e Riccardo Piatti, insomma, al soldo di Stefano Semeraro e di Tennis Italiano. Quindi, vabbè, qualcosa che lascia decisamente perplessi un po' nella metodologia. Beh, sul Tennis Italiano, in quel periodo, appaiono anche vari articoli di critica molto feroce sulla tecnica, sull'impostazione del lavoro tecnico di Ian Nixiner al gioco e di Ian Nixiner. A questo poi si aggiunge, e personalmente con mia, veramente sorpresa, è anche molto rammarico, alcuni interventi anche di giornalisti che ho sempre estremamente apprezzato, chiunque mi segua da parecchio tempo, sa quante volte ho citato Federico Ferrero, che è stato più volte anche ospite in Slice. Beh, Federico Ferrero, poche ore dopo la sconfitta contro Uber, se ne uscì su Facebook con un post veramente spiazzante. È interessante ripercorrerlo, lo lascio in calce, comunque cerco di riassumerlo, perché è talmente sconclusionato nella sua strutturazione e argomentazione del pezzo che è difficile pensare che l'autore sia Federico Ferrero. Federico Ferrero inizia l'articolo ricamando un paper scientifico e cercando di introdurre l'argomentazione con dei connotati scientifici, però senza entrare nei dettagli. Fa riferimento a questo studio in cui sostanzialmente si analizzavano l'efficacia e i problemi che possono derivare da una gestione appunto di una preparazione con dei tempi gestiti non al meglio. Insomma introduce il suo pezzo cercando di avvalorarlo a livello scientifico e poi inizia anche lui una sorta di descrizione della situazione con una visione completamente monotematica. Anche lui sostanzialmente più o meno accusando Sinner di aver fatto una scelta sconclusionata, che tutto questo è frutto del fatto che lui abbia alterato completamente il suo ciclo di lavoro e che quindi tutto questo non sarebbe successo ovviamente rimanendo con il team di Riccardo Piatti. Oltretutto Federico Ferrero fa una premessa anche abbastanza bizzarra, nel senso che cerca di giustificare subito il suo pezzo e cercando di allontanare ogni ombra, perché Federico Ferrero insieme a Riccardo Piatti aveva fatto uscire solo qualche mese una biografia in cui Ferrero appunto aveva dato una mano a Piatti a scrivere la sua biografia. Insomma trattava a lungo di Sinner, del rapporto fra Piatti e Sinner, di questo futuro numero uno, insomma della metodologia di lavoro di Sinner. Un libro che personalmente ho trovato quasi a geografico in un certo senso. Comunque Ferrero allontana subito, fa una premessa in cui dice, vabbè ma io ho scritto questo libro ma non pensate che le mie critiche in questo momento siano di parte, per poi fare un'analisi che è di parte, perché sostanzialmente non c'è nessun altro punto di vista che la visione del team di Piatti su questo tipo di situazioni è una lettura dei problemi di Sinner in funzione solamente di quella visione. Tra l'altro, mettendo all'interno del pezzo le cose più sconclusionate, ci sono dei riferimenti a Milos Raonic, ai problemi fisici di Milos Raonic. Si fa un parallelo fra la situazione allora di Sinner e quella di Raonic tormentato dagli infortuni e un Raonic che ha fatto delle scelte contro Piatti e quindi poi dopo era andato incontro a una marea di infortuni. In più, alla fine, si fa una chiosa finale incredibile in cui si fa un elenco sostanzialmente ridicolo di tutti i problemi di Sinner avuti all'inizio della stagione, come ad avvalorare il fatto che ci fosse un momento di tracollo generale, come avvalorare l'attesi che ci fosse adesso una gestione non opportuna, mettendo appunto insieme il covid, il mal di stomaco, le vesciche, un dolore all'anca, addirittura facendo riferimento ai medical time out chiamati da Sinner durante l'anno. Un pezzo inspiegabile, veramente inspiegabile, o almeno, forse qualche spiegazione c'è. La mia forte sensazione, anche avendoci avuto un po' di contatti con questo mondo del giornalismo tennistico italiano, è che un grande problema del giornalismo tennistico italiano sia appunto, come dicevo prima, la vicinanza. Molti di questi giornalisti sono estremamente vicini ai giocatori, alcuni ad alcuni allenatori, sono molto vicini alle federazioni, nel caso per dire nel macro problema legato a super tennis, dove tutta una parte dei giornalisti non può esprimersi su certi tipi di argomenti. Insomma, la mia impressione è che oltre alla questione sollevata da Turo, sicuramente della necessità appunto per fini commerciali di cavalcare un sentimento per vendere, per suscitare engagement, ci siano anche una serie di problemi legati invece alla vicinanza, alla mancanza di distanza, alla mancanza di indipendenza di autonomia, che può essere appunto di carattere commerciale, come può essere anche di carattere amicale, insomma di opportunità e queste cose qua. È abbastanza deprimente perché il quadro complessivo è quello di un dibattito che non riesce mai a trovare un po' appunto di purezza in un certo senso dell'analisi, nella possibilità di criticare, ma cercando di portare degli argomenti argomenti sostenibili, un po' oggettivi, se non altro sostenuti almeno da un minimo di onestà intellettuale. Il mio grande rammarico è che in questo caos che si è venuto a creare appunto, dove i media non sono più sostanzialmente credibili in moltissime occasioni, attenzione ci sono le qualità, i giornalisti sono di qualità, ci sono delle individualità di grande qualità. Ferrero è un giornalista bravo sotto certi punti di vista, dal punto di vista letterario nella sensibilità di alcune cose del racconto, ad esempio. Ci sono sicuramente delle persone che sono in grado di fare lavoro, ma l'ambiente complessivo non permette di comprendere sempre cosa ci sia dietro di questo racconto, che diventa un racconto spesso completamente fuori proporzione. E quindi cosa voglio dire? Che c'è un complotto contro Sinner? No, appunto, tutte queste parole per cercare di far capire, tra virgolette, che alle volte le cose un po' brutte sono anche abbastanza banali, che certi tipi di situazioni, come un attacco così sconclusionato che avviene spesso nei riguardi di Sinner, avviene più per dei motivi indipendenti e molto piccoli e molto beceri l'uno all'altro, appunto, che possono essere delle logiche commerciali, delle logiche di conoscenza, eccetera, più che per un piano dovuto a chissà che cosa. Il povero Sinner che colpa, tra virgolette, ha. Sinner ha una caratteristica che è quella di essere una personalità e poi anche nella sua manifestazione appunto abbastanza indipendente. Non è cresciuto negli ambienti federali del tennis italiano, quindi non è molto vicino agli ambienti e alla federazione italiana. È stato vicino a un'influenza forte come quella di Piatti, ma si è anche allontanato in maniera molto decisa, mostrando anche una certa forza nell'allontanarsi e questo gli ha inimicato un'altra parte. Avviene da una parte dell'Italia che moltissimi, anche insospettabili, e ve lo dico per esperienza personale, continuano a descrivere, a tratteggiare appunto come non del tutto Italia. Ha un indole sua personale mediatica molto mansueta, quindi non riesce a fare la voce grossa, penso per attitudine oppure per volontà. Insomma, tutta una serie di caratteristiche che lo rendono in un certo senso il bersaglio perfetto quando c'è da cercare di fare una polemica che porti appunto al tornaconto di qualche tipo da parte, di qualche entità, diciamo, giornalistica. E ovviamente io non ho nessun motivo per difendere sempre a spada tratta Sinner. Soprattutto chi mi segue sa che quando c'è stato da criticare Sinner per alcune cose, soprattutto legate al campo, a quello che fa in campo, che poi è quello che sostanzialmente a me interessa, personalmente non mi sono tirato indietro. Insomma, ho cercato sempre di illustrare il quadro in maniera obiettiva. Però è evidente che sia stato, vuoi o no, bersaglio appunto di attacchi feroci che aiutano paradossalmente a descrivere la crisi incredibile di indipendenza e di qualità del giornalismo sportivo tennistico italiano. Passando al campo, tornando al tennis giocato, il tour si è spostato in Asia dopo la Coppa Davis. In realtà una parte del tour, quella femminile, è stata impegnata in Centro America, in Messico, a Guadalara, in modo un po' bizzarro dal punto di vista logistico. Però diciamo che dopo appunto questa parentesi tutto si è spostato in Asia. Mi soffermo su poche cose perché questa settimana per me è stata una settimana appunto di transizione, quasi di pausa, di rifiatamento dopo un lungo periodo di tennis 24 ore al giorno. Però ci sono state alcune cose interessanti. A Guadalara è stata sicuramente estremamente avvincente diciamo la vicenda di Maria Sacari che finalmente è riuscita a vincere il secondo suo torneo. Pensate che questa giocatrice che è stata numero 3 del mondo, insomma che è ancora molto alta in classifica, insomma aveva vinto prima di questa settimana solo un torneo, il 250 di Rabat, ancora qualche tempo fa. Ha vinto un 1000, ha vinto un torneo di peso decisamente superiore. Un torneo sicuramente particolare perché appunto ha piazzato in un momento strano nel calendario, in altura, con una partecipazione molto bassa, con un field effettivamente con tantissime giocatrici forti assenti. Però Sacari è riuscita comunque a superare lo scoglio delle semifinali, delle finali e finalmente della vittoria. È qualcosa di importante non tanto dal punto di vista tecnico perché Sacari, almeno a me personalmente, lascia sempre qualche perplessità sulla sua capacità di poter spingersi veramente in cima al tennis mondiale dal punto di vista tecnico. Però certamente in lei c'era una componente di blocco psicologico in alcune situazioni perché a parte le sconfitte spesso nei momenti finali delle competizioni c'erano delle prestazioni deludenti in cui sembrava proprio bloccata dal punto di vista psicologico. Beh, questa vittoria può essere sicuramente importante in quel senso, lo vedremo e lo scopriremo nelle prossime settimane. Ha vinto con una sorpresa assoluta la Doleide, questa giocatrice americana fuori dal centro del mondo che ha fatto fuori oltretutto Trevisan ai quarti di finale, mi pare, del torneo. Trevisan che probabilmente ha sprecato in un certo senso un'occasione di fare ancora più punti in questo torneo. Vabbè, ma questo può succedere. Sorpresa quindi anche questa giocatrice americana che è una buona colpitrice di palla e per Sacca rivedremo appunto nelle settimane successive se riuscirà a raccogliere questo che è stato sicuramente un incremento nella sua fiducia, nella fiducia nei suoi mezzi. Oggi si sono conclusi i tornei invece iniziati curiosamente a metà settimana scorsa di Cendu e Zuan. A vincere a Cendu è stato Alexander Zverev che ancora una volta, un po' come al solito, non ha sempre convinto nel complesso del suo gioco perché Zverev è questo giocatore un po' particolare, fa della solidità il suo marchio di fabbrica, la sua forza insomma della capacità di essere un giocatore estremamente solido e continuo, però il suo gioco all'interno nei suoi elementi tecnici è tutt'altro che lineare e tutto dello stesso valore. Anzi, ha appunto alcuni fondamentali di altissimo livello, il servizio, la prima di servizio e non la seconda di servizio, una prima di servizio eccezionale su praticamente il secondo giocatore per percentuale di prime in campo dopo Baez, che però insomma ovviamente le prime le gioca in un altro modo e ci fa un sacco di punti perché ovviamente la prima di Zverev è tirata fortissimo. Poi però allo stesso tempo ha una seconda abbastanza insicura, spesso fragile, di rovescio è fenomenale e invece il dritto ogni tanto lo lascia a piedi. Ma un atleta sensazionale per l'altezza eppure nei pressi della rete e nonostante l'apertura all'area soprattutto nella transizione verso la rete, nelle scelte, anche un po' nell'esecuzione, lascia parecchio a desiderare. Insomma è un gioco che soprattutto anche poi nella sua implementazione tattica non convince per brillantezza. Sta di fatto che però ci sono alcuni fondamenti che gli permettono di mantenere un livello altissimo. Ha vinto questo 250 battendo in finale Safiulin, giocatore russo estremamente bello da vedere giocare, estremamente aggressivo, lo definirei una versione un po' più piccolina e un po' più misurata, forse non così potente, di Karatz. È un colpitore di palla eccezionale, cerca la palla prestissimo, soprattutto di rovescio colpisce molto bene. Ha forse uno dei migliori sul servizio, considerando centimetro per centimetro appunto non è altissimo del circuito. A Cendul l'abbiamo visto servire spesso intorno ai 225 all'ora. Ne ha fatto le spese Musetti che si è trovato quasi impossibilitato dal punto di vista tecnico a competere contro appunto la brillantezza e l'aggressione continua di Safiulin in semifinale. Musetti ha giocato un primo turno non eccezionale, tutt'altro che convincente, una buona partita con Riedernic e poi è stato sconfitto da Safiulin, mostrando un po' quelli che sono i suoi limiti dal punto di vista tecnico sulle superfici dure. Invece a Z1 a vincere è stato Kacchanov al suo secondo torneo dopo rientro per dei problemi alla schiena, immediatamente vittorioso e quindi insomma si ripresenta per un finale di stagione un giocatore che soprattutto invece nella parte finale della stagione scorsa all'inizio di quest'anno insomma sembrava in procinto di fare il salto di qualità insomma soprattutto a livello slam. Sono state tre semifinali praticamente conclusive conquistate da Kacchanov che è un giocatore di grandissima solidità, ha battuto uno dei miei protetti tra virgolette, uno dei giocatori per cui ammetto di avere un debole che è Yoshito Nishioca, il piccolo giapponese che ha giocato un gran torneo, ha mostrato la sua solita brillantezza tattica atletica di manualità nonostante ovviamente uno specimen fisico insomma difficile da gestire in alcuni momenti, ha giocato un gran torneo però poi in finale Kacchanov dopo un primo set estremamente combattuto insomma è andato via abbastanza facile nel secondo però Nishioca ormai è una presenza abbastanza sicura nel circuito con una capacità anche di poter fare qualche exploit a livello 250 anche 500 insomma fa piacere è un giocatore brillante anche molto particolare come personalità. Quindi questo è tutto per oggi puntata un pochino anomala la settimana che viene cioè già dopo domani si giocherà il 500 di Pechino che è un 500 di qualità eccezionale, si giocherà il 250 di Guadalara, si gioca a Tokyo in campo femminile quindi tornano in campo molti pezzi grossi, a Pechino ci sono veramente tantissimi giocatori di livello fra cui Alcaraz, Sinner, Medvedev, insomma un field eccezionale quindi ci sarà parecchio da divertirsi. Alla prossima!